Rimane ancora qualche giorno di tempo per presentare le domande per poter partecipare ai progetti del Servizio Civile Universale. È stata stabilita infatti la proroga fino al 10 febbraio 2022 alle ore 14 dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. E così i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti dotati di speed di livello 2 avranno più tempo per presentare l'istanza esclusivamente online tramite apposita piattaforma e partecipare alla selezione dei 16 operatori volontari in totale che saranno impegnati nei due progetti del Comune di Caltanissetta. E per l'esattezza quattro giovani verranno scelti per il progetto Libri di Sognare, un posto sarà riservato ai giovani con minore opportunità. Il progetto riguarda il settore dell'educazione e promozione culturale e paesaggistica ambientale del turismo sostenibile e sociale dello sport ed in particolare l'area di intervento, animazione culturale verso minori e attività di tutoraggio scolastico. Mentre gli altri 12 posti, in questo caso di cui 4 riservati e giovani con minore opportunità, riguarderanno il progetto Ponti di Informazioni, stesso settore ma in questo caso l'area di intervento è quella degli sportelli in forma.